Ciao, ciao a tutti e bentrovati sul mio canale Faire ASMR, grazie per aver scelto questo video rilassante oggi voglio chiacchierare ancora una volta un po' con voi, questo è il primo video del mese di luglio perciò lo dedicherò anche a qualche saluto e naturalmente ai ringraziamenti soprattutto delle persone che sostengono questo canale in più ci sarà uno spazio dedicato ai consigli per gli acquisti quindi questa volta consigli di lettura, spero che possa interessarvi ma soprattutto che la mia voce così in whispering vi rilassi e vi porti dolcemente verso il sonno, fa molto 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 caldo e spero anche che per voi queste giornate stiano trascorrendo in maniera serena nonostante il sole cogente e che stiate riuscendo a dormire bene se non è così, questo video va per voi bene, io vi consiglio come al solito di indossare le cuffie oppure gli auricolari di distendervi, scegliendo un posto comodo e naturalmente di lasciare un mi piace a questo video per supportare il canale e di iscrivervi, se ancora non siete iscritti, cliccando la campanellina è nulla, direi a questo punto di iniziare allora, allora, innanzitutto come sta andando? ti senti tranquillo o tranquilla? questo video ti aiuterà a sentirti molto meglio di casa più sereno o serena dunque, prima di iniziare con i consigli per gli acquisti prendo spunto dai miei giovanissimi colleghi soprattutto ho visto fare questa cosa da Marco ASMR e da Tommy ASMR li saluto nel caso stessero guardando i miei amici ciao ragazzi che hanno introdotto dei saluti casuali nel primo video di ogni mese anche io facevo così un po' di tempo fa anche se non a scadenza regolare poi siete diventati veramente tanti 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 e quindi è stato un po' complicato salutare tutti ma questo sistema mi permette di scegliere in maniera random chi salutare se andate a vedere, tra l'altro, nella mia scheda del canale relativa agli abbonamenti noterete che ho cambiato qualcosina e spero che questi cambiamenti possano essere piacevoli e graditi da voi vi ricordo che grazie agli abbonamenti ho la possibilità attraverso il vostro aiuto di migliorare sempre di più la qualità del canale comunque da oggi in poi funzionerà così nel primo video di ogni mese ringrazierò gli abbonati scrivendo il loro nome giù in infobox e nominando gli abbonati del secondo e terzo e quarto livello con un ringraziamento speciale poi in ogni video chiacchiereggio e forse ce ne sarò più di uno al mese comunque questi non avranno una cadenza regolare salverò 5 persone a caso che me lo avranno richiesto tra i commenti del precedente di chiacchiereggio in questo caso il primo video del mese è anche un video chiacchiereggio quindi le due cose coincidono ma non sarà sempre così quindi oggi voglio ringraziare tanto 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 tutti i miei abbonati che mi sostengono c'è un infobox, trovate tutti i loro nomi e salutare in particolare Francesco che ha un nickname impronunciabile ma Froffo tu sai che sto parlando di te Helen, Castix, Udomorn, Marco La Terza, Romina Visio, Viola Scipiglia, Pietro Berna e ovviamente anche tutti e tutti gli altri che hanno un pensierino per me ogni mese grazie per questo luglio che comincia davvero alla grande poi vado a salutare 5 persone a caso scorrendo tra i commenti del mio ultimo video allora, 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 vediamo saluto Stefani con il nickname Carina Rodas Mercato mi raccomando scrivete qui sotto tra i commenti se volete essere salutati nel prossimo video che chi riccia e poi saluto anche l'ultima notifica di Instagram a proposito, se vi vado a seguirmi vi lascio il nickname qui sotto è sempre Veri ASMR e l'ultima notifica di Instagram è di 92, enjoy the silence, 92 bene, adesso sfida contro il caldo vediamo un po', ce la vincerò voglio mostrarvi due libri due libri, due libri, due libri, due libri, due libri, due libri che ho preso nel mese di giugno e che leggerò nel mese di luglio adesso allora, il primo è il libro di una mia carissima amica e collega che ha un canale ASMR il suo nome è Erika il canale è Nivea ASMR lei mi ha gentilmente spedito questo libro che è il suo primo romanzo il libro si chiama Nella stessa rete e voglio leggervi di che cosa parla, diciamo, la trama a grandi linee dunque, Paolo è un youtuber di successo ma nasconde il suo più grande segreto a tutti coloro che lo seguono sul web l'incontro con Marika, aspirante influencer è inizialmente buonascoso lo costringe ad affrontare ombre e ricordati del suo passato sullo sfondo di una Sicilia che brucia di sole, di estate e di una Milano in pieno vermento si intreggiano le vite e le strade di alcuni ragazzi ognuno con il proprio sogno da realizzare o la propria vendetta da compiere e poi c'è una citazione in quelle braccia si persero e si ritrovarono le mille parole tacite che la voce non riusciva a formulare quando si staccarono l'uno dall'altro fu come aver rimesso a posto alcuni pezzi della propria anima direi che nell'argomento ci riguardi abbastanza da vicino visto che descrive le vite di due ragazzi che si muovono nel mondo del web questo libro è disponibile per l'acquisto vi lascio giù nell'info box il link naturalmente io non vedo l'ora di leggerlo tra l'altro Erick è stata carissima perché mi ha anche rivolto una tetica scritta qui sulla prima pagina sì, sono molto, molto, molto contenta di poter leggere questo romanzo poi, 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 poi ah, ecco, prima di passare al secondo libro che ho acquistato io e che non vedo assolutamente l'ora di leggere visto che ho parlato di Ericka e del suo romanzo non posso non ricordarvi dell'agenda ASMR della quale ho finalmente la versione finale delle mie mani anche perché Ericka Nivea è stata una delle partecipanti al mio progetto quindi la sua voce è anche tra le pagine di questo diario agenda ASMR il primo e unico diario agenda ASMR al mondo voi direte come fa una voce ad essere all'interno di pagine di un diario che è l'interno di ericka non è solo la sua ma come potete vedere ci sono tanti, 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 tanti altri artisti che hanno preso parte al progetto e vi lascio giù nell'info box il link anche per ordinare questa agenda sarà presto disponibile anche nei negozi fisici e insomma nelle librerie e cartolerie ma per ora è ordinabile online seguendo il link che vi lascio giù in descrizione mi raccomando sono molto contenta che abbia vinto questa copertina l'avete scelta voi le opzioni disponibili erano queste due anche l'azzurra è bellissima ormai è un pezzo unico è molto raro perché è fuori produzione mentre questa è quella che voi avete scelto la più votata che è la versione definitiva vi farò molto presto un video molto particolare relativamente alla mia compilazione dell'agenda una sorta di lacto school non troppo però intanto vi invito a prenderla se la volete anche voi bene ora passiamo finalmente al secondo libro che vi consiglio che devo iniziare proprio in questi giorni è che questo ha un profumo buonissimo delle pagine allora si chiama il processo della presenza ed è di Michael Brown sulla copertina c'è scritto un viaggio per imparare ad affrontare con consapevolezza le vicende quotidiane facciamo un po' di tracing sulla figura questo libro questo libro me lo ha consigliato un mio amico in un momento in cui ero davvero un po' disorientata per i tanti cambiamenti che stanno accadendo nella mia vita e spero davvero che vi sia utile e voglio provare oltre a farvi ascoltare il suono bellissimo delle pagine a leggervi in modalità inaudible un piccolo strato innanzitutto dietro c'è scritto ognuno di noi è responsabile della qualità della propria esperienza e questo libro ci insegna in modo pratico a esercitare una vera responsabilità personale il processo della presenza ci esorta a fare esperienza della consapevolezza nel momento presente come modalità esistenziale e approccio quotidiano alla vita sul nostro pianeta e ci rivela i meccanismi del nostro umano sentire scegliamo la pagina pagina 92 ultimamente mi sto proprio tanto appassionando alla mindfulness al self care della meditazione e sto cercando di avere un approccio alla vita davvero più consapevole e centrato spero tra l'altro che i contenuti della mia agenda aiutino anche voi se l'acquisterete in questo processo spero perfettamente una preparazione purgiamo prima corretta ru 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 Con attenzione », trono detto, la pratica di respirazione, Allora threadlete della spiments erano ponesti a dozz��� crediti della practica della ruota, con tutti dic ошибenti della proprietà, per accettare il premettino del progetto vantaggiarlo per ogni 15 minuti grazie a contatto siccome è un suo partito grazie a te e insomma beh io adesso vi devo mandare la buonanotte perché è arrivato il momento di salutarci e spero davvero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando fatemelo sapere come al solito lasciando un mi piace e se volete essere salutati nel prossimo video di chiacchiere scrivetemelo qui sotto con un commentino e basta grazie ancora a tutti voi che mi sostenete grazie davvero a chiunque abbia un pensiero felice per me e vi auguro la buonanotte e noi ci vediamo come al solito ci vediamo nel prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti